Dopo il successo della prima edizione ritorna il Do Not DJ Steam Contest. Questo giro è riservato ai residenti delle province di Varese, Milano, Monza Brianza, Tomo, Novara e Verbania. Lo scopo è trovare te! Ti basta creare un team con un minimo di due persone, crea la tua squadra e sommando almeno un DJ o un percussionista oppure un vocalist oppure... Delle cubiste, un sassofonista, percussionista e uno che premischia. Il più sarai creativo, maggiore sarà la possibilità di passare alle fasi successive che ti porteranno alla finalissima. Finalissima dove in palio ci saranno delle opportunità e dei premi. Tutte le puntate saranno capitanate dai DJ Spine. Palmieri, tu li conosci? No, no, sono due cretini. Fra tutti i partecipanti, uno di voi vincerà un asserato sul palco insieme a noi entro il 2015. Sei un producer e quindi parteciperai al Do Not DJ Steam Contest, avrai anche un brano inedito. Ottimo perché? Perché ce lo devi mandare, noi lo valuteremo e magari sarai uno dei fortunati ad essere come questo disco inserito nella Do Not Records. Ma attenzione perché ci saranno i premi e i premi consistono nel primo classificato che si beccherà... La palanca! 600 euro! Affrettati a contattarci caro amico. Perché il concorso è a numero chiuso. Info, semplicissimo, 346 68 57 900. Oppure direttamente con un messaggio Facebook al profilo per DJ Spine Palmieri. addresses è che più ci attacchi davanti a partecipanti. Oppure direttamente con un gruppo il